Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Federica Pellegrini ha condiviso un toccante messaggio sui social per onorare la memoria di Giovanni Barchetti, il titolare della storica gelateria d'Use ai Parioli di Roma, scomparso recentemente. La campionessa di nuoto ha espresso il suo dolore per la perdita di Giovanni, descritto come una figura fondamentale non solo per il quartiere, ma anche per lei durante i suoi anni di allenamenti. Pellegrini ha scritto su Instagram che Giovanni le è stato accanto attraverso le diverse fasi della sua vita, dalla bambina all'atleta matura, e ha sottolineato che il suo gelato aveva il potere di guarire l'anima, anche se, in realtà, era la presenza di Giovanni a fare la differenza. Il ricordo di Giovanni suscita affetto e gratitudine tra i suoi clienti e amici, con molti che si uniscono al cordoglio di Federica. Una follower ha ricordato che Giovanni offriva il gelato gratuito ai bambini, a cui per i pellegrini ha aggiunto che il gesto era esteso anche ai nuotatori, confermando quanto il gelataio fosse amato e rispettato da tutti.